Bene, vediamo ora come installare il tutorial in italiano Il tutorial apparirà qua, sui minigame e comparirà con questa sigla. Per andarlo a scaricare andiamo a prendere questo link che ho preso che è Bitly Salmt Tutorial World quindi lo clicchiamo, CTRL V questo fa riferimento a un documento su Drive Google Drive e possiamo scaricarlo così otteniamo un tutorial.zip lo mettiamo in un posto facilmente rintracciabile per esempio, in questo caso sotto il D e quando lo andiamo a aprire, questo .zip dentro c'è una cosa che si chiama Tutorial questa cosa va messa come game, minigame dentro il nostro MindTest quindi come facciamo a metterlo? andiamo dove abbiamo scaricato il nostro MindTest 0.4.16 vedete che in tutte queste cartelle abbiamo Games e qui abbiamo una serie di cose qui ce l'avevo già scaricato prima quindi lo cancelliamo Tutorial.zip cancelliamo e quindi andiamo a copiarci il tutorial che sta qua dentro lo zip avete bisogno di 7zip per aprirlo lo mettiamo ed è comparso Tutorial ora, se voi andate nell'impostazione dei game vedete che cliccando su Tutorial è scritto in italiano ma manca il mondo quindi come facciamo? accertiamoci di essere in modalità non creativa con i danni e facciamo Nuovo qui chiamiamo un mondo qualsiasi ho scoperto che in realtà lui creando un mondo così ne crea sempre lo stesso che si chiama Tutorial quindi facciamo Crea vedete che lui lo dice Test Tutorial ma nel momento in cui andiamo a fare il Play Game in realtà lui sta costruendo un mondo nuovo e come vedete siamo in mezzo al tutorial ora, questo è quanto nel prossimo video faremo effettivamente il tutorial audio Grazie a tutti.